Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Battletree, l'ospite di oggi è Riccardo D'Apamea Ciao a tutti ragazzi Riccardo è un giocatore molto conosciuto, molto temuto, ha vinto molto Nel anno scorso ha vinto un regionale, ha fatto top 8 al nazionale inglese è arrivato al day 1 al mondiale per un soffio non era qualificato col viaggio pagato al day 2 è comunque arrivato in day 2 distruggendo tutti è andata un po' male facendo 4-3 mondiali però aveva azzeccato la formula del team, aveva un reign come chi ha vinto il mondiale Esatto, sì, avevo optato per un reign un po' diverso dal solito con Mawile e Zapdos, adesso che mi ricordo, Zapdos era HP Water e diciamo che il secondo giorno è andato un po' male da quando ho trovato Jimmy Boyd che mi ha battuto anche con un po' di fortuna, devo dire Beh, anche questo nei tornei vuol dire perché se sei abituato a counterare il top meta e sai che il team di top meta farà sempre X0 finire negli X1 ti va andare a trovare quei team a cui non eri preparato magari a counterare c'è più randomicità negli X1 rispetto all'X0 Sì, sono d'accordo, trovi team un po' diversi dal solito di quale magari fai più fatica, trovi più sorprese sicuramente e poi essendo un mondiale anche no perché tutta la gente era preparata però cominci ad andare diciamo a prendere la cattiva strada bene, parliamo un attimo del team che ci hai contato oggi allora, questo è il team con cui ho giocato l'Indianapolis Challenge che è avvenuta ieri ho voluto portare questo team perché lo vedo molto solido sono partito da Celestila Garchomp Garchomp con la stola scelta che è un Pokémon che con la stola scelta può fare da più molte cose e diciamo che va a mettere una pezza su tutti i Pokémon che Celestila sopra quali Arcanine, Tapu Koko e via dicendo e dopodiché ci ho messo l'onnipresente Arcanine sì, oramai è il Pokémon, è il metodo Arcanine sì, Arcanine, secondo me sono convinto vincerà il mondiale quest'anno Arcanine e dopodiché ci ho voluto mettere Tapu Lele relativamente per togliere il campo a Tapu Koko quindi rendere Celestila ancora più protetto diciamo e infine vediamo la coppia Porygon 2 Mach l'ho messa perché negli ultimi tempi secondo me Mach è stato poco abusato infatti abbiamo visto anche nell'Indianapolis Challenge esserci molti molti Mach effettivamente il knockoff è una roba con le bacche da 50% è tanta roba infatti ora che sono uscite tutte quelle bacche secondo me è molto utile Mach è Porygon vicino poiché chiaramente gli leva la sua prima minaccia che è Garchomp e gli seta la Trick Room per farlo diventare pericolo sì esatto, questo ti serve contro chi non ha niente per le Trick Room e che punta tutto sulla velocità magari esatto, vai ad arginare quei team veloci ok, andiamo subito a giocare facciamo un paio di partite allora, Arknine, Gengar, Rodactil, Marowak, Bulu, Geridos è un ponte ma a caso sì, sembra un ponte di impatto diciamo che Rodactil può essere pericoloso Funtant, The Wind sì, Gengar però non la vedo una grande minaccia no quindi io partirei con... vediamo lui ha due Intimidate, è una cosa che bisogna tenere di conto sì, assolutamente allora io intanto porterei Tapulele comunque non lo porterei in leading perché vedo lì il Tapu Pulu che può dar fastidio io partirei se desti d'Arknine con... non mi deve passare con Tapulele e Garchomp sono d'accordo poiché Garchomp nel late game può dar fastidio però non lo porto davanti poiché Rodactil adesso si darà la The Wind sì, anche perché poi con Arknine più che Ridos rischi di non fare niente a nessuno infatti adesso facciamo uno sì, andrei molto semplicemente con Flash Cannon su Aerodactil e con le rarie su Axesh e... beh, quel Gengar potrebbe reggere la Flaire Page perché quest'Arknine non ha Eps in attacco quindi preferirei un bello Snarl sì ok, protegge, perfetto Rock Slide vediamo, probabilmente cerca un Flinch a noi interessa che Celestina colpisca perfetto e colpisce si becca un Boost in difesa ho voluto farlo col Boost in difesa poiché ultimamente girano molti Budwell che è tornato secondo me abbastanza giocabile e... anche perché poi regge bene Arknine quando è più uno di... ho visto anche ieri nella finale dell'Indianapolis l'avversario di Michele Gavelli cercava di shottarli Celestina con Power Gem più Z-move di Budwell infatti, infatti Budwell è messo lì apposta per Celestina e per i Pokémon lenti che non reggono la detta lotta adesso andrei semplicemente di protezione più Garchomp secondo me, a posto di Arknine sì, a sto punto facciamo Mambassa certo così vediamo se lui come ultimo Pokémon ha portato... ha portato Geridos ora, EQ, Leech Seed? sì, io secondo me quel Jengar non è Sesh perché lo sarà stato Aerodactyl comunque se fosse Sesh potrebbe essere... diventare un problema quindi andrei anche con Celestina su Jengar ok farei Terremoto più Leech Seed perfetto tanto sicuramente lo Switch sì, se lo Switch è Entra Geridos ah no, è proprio disconnesso ok, questo tizio ha reggiquittato senza onore boh, lo schifo, boh facciamone un'altra ok, Drift in Lele, Snorlax, Ercanine, Garchomp questo parte Drift in Lele questo parte sicuramente Drift in Lele comunque con Celestina speciale non è un problema anche se si brucia Celestina perché avete Scand quindi secondo me possiamo partire benissimo Celestina, adesso fammi pensare che mi fece accanto vediamo avere anche Geridos quindi un ulteriore volante potrebbe dar noia al nostro carccio eh, io partirei anche Celestina Ercanine come abbiamo fatto lo scorso Nel e poi chiaramente Tapulele va portato per spammare molti danni sì, l'ho alzato in Lele stavo pensando ci portare ci portare Mach comunque il rock slide di Garchomp a Geridos li fa male sì, ci potrebbe stare anche Garchomp è che poi se no non abbiamo molti switch in sui canali quindi proviamo a portare Garchomp anche se il Mach ci toglieva il baccone da Snorlax sì, il Mach fa bene anche contro l'Ele l'unico problema è quel Drippling che potrebbe bruciarci se no io facciamo così partiamo partiamo a Celestina e poi Ragon 2 per settare la Trick Room nel caso così Drippling non può più settare la Kill Room e se L ci provoca comunque si becca un Clash Candy va bene e poi Arcanine Garchomp e Arcanine Lele no, Arcanine Lele ok, Rifle in Lele ok, aspettiamo il Taunt sì, secondo me lui fa Taunt comunque la Trick Room la setterai lo stesso ok, ha switchato bene, quindi se ne va con Lele prova a Wispare Celestina ma pissa e noi settiamo molto bene beh, adesso uscirei con Celestina Arcanine e Arcanine e poi con Tri Attack e poi con due Drippling lo vedo molto inutile ora perché entrando con Arcanine Willow Wisp non può farci facciamo Tri Attack su Arcanine Sì, Tri Attack su Arcanine proviamo a levarselo subito Protegge vediamo dritto un po' da colpare Willow Wisp va bene allora adesso Snarl? Sì beh, Snarl alla fine ci tocchiamo solo una Shadow Ball poi io proverei a fargli non Play Blitz su Willow Wisp sì io farei io farei Play Blitz sì e poi farei Pi Attack su ok ok butta Lele classico bene Redweight che io ho sta possiamo anche puntare tutto su Lele in questo turno sì no il problema il problema il problema è il switch dentro con Arcanine sì sì poi questo è un Arcanine veloce il mio quindi Tapulele sarà sicuramente in grado di agire prima di Arcanine ok ora come ora io farei una Protegs con Arcanine oppure switcherange si destila e poi andrei di 3 Attack eh però abbiamo bisogno di uccidere Drift Blim forse prima che scadrà 3 Crew no 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 credo anche di no ok Celesteela e 3 Attack sì oh uh vai Destiny Bond vabbè io lascialo pure lì a fare Destiny poi ti faccio le Rich Seed non so beh se gli fai le Rich Seed lui ci scotta gratuitamente però anche se siamo scottati secondo me non è un problema è più importante tirarle il Rich Seed adesso e ti attacchi di nuovo eh beh l'Ele c'era una Protegs abbastanza ovvio però ah sempre Drift sì proprio che cosa speciale ci voleva comunque il campo è finito il campo è finito però Celesteela di doppio attacco muore lo stesso quindi Celesteela meglio proteggerlo e Trick Room e Trick Room sì di casomai se arriva il Taunt comunque il turno dopo no non arriva il Taunt eh probabilmente Life Orb non 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 e e niente adesso Flash Cannon 3 Attack sì fammi pensare Flash Cannon conviene un verrebbe farlo a Drift sì 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 ok doppia protect no ok così becchiamo un bel boost in difesa che dici sparo il Flash Cannon a sinistra o il Leech Seed no Flash Cannon a sinistra e triattac a destra no secondo me Flash Cannon va bene però entri con Arcanine per dargli un ulteriore intimide ok sì abbiamo il più uno in difesa però comunque ci fa male lo stesso di ah Garcione ecco qui non ci ha tolto niente no no è assurdo col più uno e il meno uno in attacco non ti copio nulla spammere Ige Seed a sinistra o a destra è uguale secondo me su Garcione perché Garcione è più pericoloso di Arcanine adesso e con Arcanine anche di Perflip su Arcanine wow buono adesso vediamo se Garcione ah perché Garcione potrebbe anche essere più lento di magari se Adamant mi schiamo sia più lento del nostro Arcanine ok lui vuole installare la Trick Room e togliersi l'Inquimidate da Arcanine come è giusto che sia quindi adesso vediamo un po' c'è ancora un turno di Trick Room Leech Seed su Garcione sì tanto comunque col più uno in difesa reggiamo Arcanine secondo me è Leech Seed su Garcione e farei Flare Blitz sempre su Garcione così becchiamo Rack Skin e andiamo in range della bacca lui ha provato la doppia protect ma gli è fallita eh se li entrava era un problema comunque vedi adesso becchiamo la bacca sta la mia ora beh adesso protect ovvia con Celestina e uscirei con Arcanine e metterei Porygon 2 a questo punto non abbiamo più bisogno di settare la Trick Room abbiamo solo bisogno di installarlo Z Terra beh arriva su Porygon che regge ora forse regola di nuovo il Free Blitz si se lo intimido regola il Free Blitz si se lo intimidi regge Flare Blitz però rischi che faccia anche Rock Slide infatti infatti io con Arcanine stavolta entrerei a Sinistra sai a cosa di Celestina si secondo me si ok e Porygon lo lascio a morire si provi a settare la Trick Room ho provato a fare le cover vabbè ci può stare dai una mossa abbastanza sbardata da parte sulla seconda perché lasciava Celestina fare quel che voleva io adesso farei il doppio protect il turno dopo finisce il Psychic Terrain e con Extreme Seed Gargion muore se non muoviamo di Extreme Speed perché noi siamo più veloci no no sono d'accordo entri con entri con Celestina fai doppia protect anche perché se lui il turno dopo prova a proteggere muore di Leech Seed non esce ok non muoviamo di Extreme Speed campo finito facciamo il CCD sul Canine sì sì poi abbiamo Lele che finisce il gioco diciamo comunque difficile ci superi con l'Extreme Speed perché siamo full 252 Speed rendiamo portiamo a casa un 3 a 0 ya papa forse 3 a 0 no però si è disconnesso rifacciamo un'altra veloce sì dai ci sta ci sta ok vado subito non aspettiamo neanche l'altra oh Butterfree Oranguru Mack Golduck Marsdale Butterfree e Marrow beh non ci lasciamo ingannare perché Butterfree può diventare noioso e Oranguru più più Marsdale può dar nota per via di terremoto con Strack quindi secondo me questa partita la portiamo a casa abbastanza facilmente con Celestila stando attenti a Marrow e a Mack potrebbe toglierci lo strumento ok quindi quindi partirei direttamente con Celestila io so Butterfree essere più lento di Tapulele quindi possiamo lindare con Pet e dietro Chomp Canine l'onipresente Arcane secondo me e Chomp Scarf non lo vedo molto bene qui perché sì d'accordo che potrebbe Mack con Crotov è shotta e Marow no non lo shotta però gli fa 90% e poi con Imprison lo vogliamo l'altro Mack sì abbiamo anche a disposizione Imprison non vorrei soffrire troppo quel match quindi Porygon anche se con Celestila ci stiamo dentro abbastanza bene ti dirò ma alla fine porterei porterei ancora Garçon perché anche se setta Trick Room comunque non c'è nessuno che ce lo fa fuori in un colpo esatto vediamo subito Butterfree probabilmente vorrà fare Sonnifero Trick Room si ma a noi non interessa perché gli facciamo gli facciamo Town ah e faccio gli seed su Ranguru no secondo me no perché se facessi Rage Powder gli arriverà degli seed a me non va molto bene ok quindi Flash sì Flash can e Town su Butterfree ok arriva Rage Powder almeno in Debian che non ha preso quasi neanche danni ripetiamo il Town su Ranguru no ormai Ranguru è facile che sia mentale erba secondo me lasciam passare questa Trick Room e fai lì il suo Ranguru e fai no perché potrebbe entrare Mac secondo me o vuole farsi un Star Butterfree comunque fai Moonblast su Matt su Butterfree perché ok Mazdel sono un piano sia Spager eh questa è una mossa carina questa è una mossa carina perché è una bella combo insomma da un classico però ci tocca se le stila gli facciamo le seed sì io lo seederei lui potrebbe andare su sicuramente su su Tapulele però mi sa tanto che Tapulele dobbiamo perdere facciamo un protect prima perché più che altro ho paura che vada su Celestina lui eh appunto capito rischiamo la Z non so beh io farei su Mazdel e anche psichico tutto su Mazdel ci sparo una Z proprio sì beh comunque muore di psichico dai vedi lo slide missed ora la rifà sì dovrebbero reggere anche con Tapulele dai eh ci arriva il flinchettone e io gli faccio la doppia protect adesso fai una doppia protect sì cc eh vedi va di close combat vuole tirarci su quel Celestino va bene e noi con lei la riattacchiamo allora attenzione su tu entri con perché lui adesso sicuro vuole farti fuori Celestina ah se butto Garchomp su Mazdel muore no no l'idea era quella di buttare Pianain su Tapulele così quantomeno se fa Frana reggiamo con Celestina e faccio Fresh Cannon solo un guru no lo farei su Mazdel che becchi più uno in difesa ok vai Arca ecco vedi in questo caso prende si ammazza Arca9 però abbiamo un attacco da fare con Celestina e se plincia se plincia entriamo con Gart bene adesso quello del guru viene giù di doppio attacco bisogna buttare l'ale secondo me per Butterfree no secondo me anche con Garchomp li facciamo Rock Slide se entra Butterfree così abbiamo una possibilità di fare plincia su Oranguru e ammattiamo Butterfree io ho portato a casa eh no c'è la Citrus Berry beh comunque resta da solo con un Pokémon ah plinciato basta bella forfè vedi come vedi Celestina è ancora un gran Pokémon cioè tutti quei team fatti un po' a metà quei pick room strani Celestina con i semi li ferma tutti sì è vero è un buon Celestina anche perché il boost in difesa non l'avevo mai considerato ma è qualcosa di veramente carino è un Celestina un po' moderno diciamo che è uscito ultimamente col boost in difesa prima non lo aveva in difesa speciale diciamo per reggere Tapu Koku vero bene Riccardo io ti ringrazio per essere stato con noi in Battle 3 grazie a te sicuramente builderemo insieme anche perché io e te abbiamo altri progetti siamo compagni di team insegneremo alla team acqua academy insieme quindi porterò tutta la tua sapienza tutte le sue conoscenze nel mio canale perché sono fondamentali certo collaboreremo alla grande vedrai ciao a tutti ciao ciao ragazzi